Non si fermano le ondate di sbarchi clandestini sulle coste lampedusane. Dopo la tregua delle ultime 48 ore sono ripresi gli attracchi. Questa notte è un'imbarcazione con a bordo 46 tunisini, tra cui anche donne è stata intercettata e soccorsa a circa 20 miglia a largo di Lampedusa da una motovedetta della Guardia di Finanza. Durante le operazioni di trasbordo gli uomini delle fiamme gialle hanno tratto in salvo anche un immigrato che era caduto in acqua. Una volta arrivati al porto Favarolo gli immigrati sono stati trasferiti presso il CIE di Lampedusa. Attualmente 180 le persone ospitate presso il centro di accoglienza dell'isola. Intanto nel canale di Sicilia le autorità marittime hanno avvistato un'imbarcazione partita dalle coste libiche con a bordo circa 300 migranti ed il cui arrivo a Lampedusa è atteso nella giornata di oggi. Ed intanto questa mattina il ministro della difesa Ignazio Larussa si è recato a Lampedusa per ringraziare i 160 militari delle forze armate impegnate nell'operazione denominata Strade Sicure Emergenza Umanitaria. Durante la visita il ministro Larussa ha incontrato anche il personale dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini. Comunque l'accordo preso con la Tunisia pare funzionare, anche se, come afferma il ministro dell'Interno Maroni, non bisogna abbassare la guardia.